Salve a tutti e benvenuti in questo nuovissimo filmato, è vero video su Halloween, Halloween e Halloween, per carità, e ne arriveranno tanti altri ve lo dico eh, ma avevo bisogno, proprio un bisogno patologico di registrarvi un cosa mangio in un giorno, ed ecco qui la mia colazione, colazione con il mooncake, poi riscaldato al microonde, adesso che da mesi e mesi ormai abbiamo il microonde come ben sapato, una bella scaldatina e dentro si scioglie tutta quella cremina al cioccolato, signori e signore a seguire la pasta patata e provola, paradiso terrestre, proprio paradiso unesco, che buona, lo so che andrebbe la pasta mista come si fa in teoria alla napoletana, ma a noi ci piace in casa anche con le mezze maniche, ed è una goduriosa pasta mamma mia, super ciccionosa, spettacolare, che buona, troppo buona la pasta patata e provola e pancetta, mamma mia, goduria allo stato, puro, pazzesca, come merenda del pomeriggio non ho mangiato niente, ho solamente bevuto questa tisana al cioccolato della Yoigt, buonissima, cena invece dei fagiolini conditi all'agro, olio, limone e così via, e scubettato un po' di pollo, super speziato, curry, paprika, piccante, un po' indiano style, e come post cena invece questa tisana sempre della Yoigt, sogni felici, e con questo è veramente tutto, io vi auguro buon weekend, e ci vediamo lunedì 14.30 con un nuovo video, ciao!